Noè, ma che ce fai qui a edermi? Ho portato i lombricchi a fare i fanghi! Non possiamo fare niente per questo viola freddore! Certo che posso! Sì, sì! Oh, ma è passato! Pietro, ma come ha fatto? Siamo in paradiso, no? Come posso sdebitarmi? Con un buon caffè? Crema e gusto? Ottimo! Ho capito, vado! Che profumo, si sente pure con il naso chiuso! Sempre buono! E la pazza crema e gusto? Questo ti rimette al mondo! Oh, Pietro, si può far niente per la bruce del maestro? Ma perché che c'ha, voce mia? Che c'ha? Ci vorrebbe il primario! No, almeno è bravo! Ma chi? È sto primario, dico! Lo vedi? Che poi quello da voce è il problema minore, eh!